Inizio il disco, anche se inizio il disco E benvenuti in questo nuovo episodio nella mappa Emilia Io sono Gazzi04 Allora, in questo episodio, ovvero il numero 47 Siamo rimasti esattamente così O meglio, no, proprio così Diciamo che io sono andato un po' davanti Ovvero, eh... Ho arato il campo numero 20 Però, se avete visto bene Sul tetto è ancora rimasto Il Fend Ovvero questo qui Che in questo episodio, insieme a Leo, appunto Abbiamo fatto un po' di malanni E... Diciamo che è ancora rimasto qua Però, sì Lo buttiamo giù Perché, cosa ha fatto qua? Mi serve Mi serve Ok, eh... Ci sta Bello, bello, bello Allora, oggi dobbiamo fare comunque il pastone Che l'altra volta siamo bloccati Appunto, fare il pastone delle mucche Quindi, andiamo a provare a liberare il Fend Che è leggermente incastrato Mannaggia a Leo Che lo ha incastrato per bene Comunque, tanto vi ricordo Di lasciare un commentino Mi piace al canale Grazie mille a tutti quelli Che lo faranno Questo è il mio famoso Cuore culo Perché assomiglia un culo E vi ricordo anche Che io per registrare Sono in live su Twitch Quasi, comunque Non so per registrare Ma comunque Quasi ogni sera Sono in live su Twitch Quindi passate Perché ci divertiamo Poi vi ricordo Anche TikTok Instagram Allora Questo è non incastrato di più Devo portare qui Lamborghini Ok, eccolo qui Cerchiamo con la forca Magari di sistemarlo Mi sa che va l'incastrato Eh Sì, ha funzionato Era una delle tante idee Che avevo in mente Ha funzionato Quella più stupida Incredibile Allora, secondo me Questo qui porto 25.000 litri E il pastone si fa Con una balla Di pieno Anni circa 10.000 Di insilato Per questo cassone Palla di magine minerale E quello che rimane Di solito va in paglia Quindi adesso Cerchiamo di collegare Il nostro appunto Cosa sotto qua Quindi Giriamolo Perfetto E devo mettere dentro Anni circa 10.000 litri Di Di insilato Qua ne abbiamo ancora 3.000 E poi devo ancora prendere Il mancime Che Lo acquistiamo anche subito In pari che sta sul Pallet Mancini minerale Questo qua Mi basta solo un pallet Ovvero 1.000 litri Dentro il cassone blu Abbiamo ancora Da quello che mi ricordo Un po' di insilato Quindi adesso Proviamo a scaricarne Anni circa Altri 7.000 litri Per terra E li carichiamo tutti Dentro Il nostro Miscellatore Ok 9.600 litri Di insilato Ce li abbiamo Vabbè Dopo quelli Li butto dentro Al cassone E vado a negozio A prendermi appunto Quel pallet di mancime Allora comunque Stavo pensando Mentre stavo Conendo qui Che forse Mi conviene portare Il fend A spazia Già la calce viva Magari mettiamo Già subito L'operaio A darare L'altro campo Ok Ho preso anche Il mancime Dal negozio Quindi adesso Lo buttiamo dentro Intanto Vediamo L'operaio Come stanno andando Aspetta In che senso Aspetta Aspetta Ma mappa grande Che cos'è qui Che c'è Che c'è Su questo trattore qua Oddio Un alieno No Impossibile Non esistono alieni Leo Leo Sì Tu come sei entrato qua Eh sapessi Buonasera signor Leo Buonasera Leo Leo Guardalo qui signor Leo Salve 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 Eh stai arando Vedo Cosa pare L'operaio È diventato È diventato reale Incredibile Incredibile Vabbè comunque Io torno dalle mucche A fare il mega Iperpastone Tu lei Continua pure a lavorare Allora Adesso Balla di fieno E poi Teoricamente Quello che rimane Sì Mu anche a te Poi quello che rimane Diamo La paglia Questa è teoricamente La dose giusta Allora vediamo Un attimo Come è preso 91% Ok Allora Tiviamo un po' giù Fiamo il 50% La balla Ok Possiamo ancora rischiarcelo Sì possiamo anche rischiarcelo Possiamo rischiarcelo Possiamo rischiarcelo Ok E abbiamo fatto Il mega pastone Quindi per capolare 10.000 di insilato Per questo Miscelatore 10.000 di insilato Una bella di Fieno completa Quadrata Un pallet Di Mangio minerale E poi il resto In paglia Ovvero la razione mista Per le nostre mucche È bella che è pronta E gliela diamo subito Totale la razione mista Non c'è tanto qui Aspetta Va in un posto specifico Magari all'esterno Ma comunque È un operale ha finito il lavoro Quindi ha finito Di spazio e calciaviva Ma perché Sono pieni Allora Vediamo se è dato da qui Forse l'accetto Perché il magiatore Teoricamente è l'interno No 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 La razione mista La vogliono loro Però da fuori No Perché così poco Diamo i mucche Non ho fatto 2.000 litri E poi si sono rifiutate Piena Ah perché è piena Aumenta la capacità totale Ok Sì perché è proprio piena La mento Ah bene Forse adesso ho capito Ho dato il percentuale Riempito adesso con Aspetta 100% Questi percentuali qua Non capisco È la percentuale di Oddio Di quanto buono è Cioè nel senso Di quanta produttività hanno 80% solo col fieno Sì Però poi di te È il 100% No 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 C'è qualcosa che non va Ragazzi qualcuno Ne commenti Cos'è il 100% Poi di ti fa il 100% È 80% il fieno E la razione mista Il 100% Perché praticamente Allora Se tu sei povero Non hai cose Gli dai solo l'erba Sì Ok Sì Se tu invece hai solo il fieno Gli dai il fieno Se hai anche l'insilato Tutte quelle cose là Sì Puoi fare la razione mista E con la razione mista C'è la produttività Di 100% Difatti Se tu adesso guardi in alto C'è scritto Produttività 100% Allora vediamo quando andrà giù Allora Al mese prossimo Vediamo Se Leo ha ragione Gli regalo una sub Se Leo ha torto Non regalo niente Allora Questo comunque sì Ok Questo ha finito Quindi Quindi adesso ti converebbe Sempre dare Solo resta una mista Perché così li dai Appunto Di Di Assolutamente Infatti il prossimo investimento Sarebbe appunto Comprare La latteria Per appunto produrre formaggi E produrre Non lo so Le cose Quella Intanto adesso comunque Devo spargere pure qui La nostra calce viva E dopo Facciamo passare Due mesi di gioco E andiamo a novembre A vendere le uova Così iniziamo ad Ad avere Un ritorno economico Ben notevole Ok Siamo arrivati a novembre E anche un bel giorno C'è una richiesta elevata Allo scalomerci Che cosa però Di che cosa Di che cosa Spero delle uova Perché se delle uova Vuol dire che ci pagano Molto di più Non lo so Sinceramente Se delle uova Non penso Ma la locanda Ci paga forse di più Pastificio Pastificio Che dove ci paga di più No è la locanda Locanda dove Chi era Quello Vicino qui Ok sì Tutte caricate Eppure quelle parti lì Che rimane sempre lì Perché deve fare appunto La muffa Deve essere stagionato In ogni caso Prima di vendere le uova Volevo vedere una cosa Siccome i mucano Sicuramente un botto di fame Capicità Eh no Leo Mi sa che la sub Non si è giocata Perché Tutte vittà delle mucche Ancora a 100% Guardiamo Allora vendiamo le uova In te disco In che se in te disco Ma Ma E adesso Aspetta 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 Che forse Ce la faccio A liberarmi Ok Ok Adesso è genio Guarda 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 che roba Guarda Aiuto Perché mi spinto in Cile Oh Eh Eh Sì Sì E adesso No aspetta 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 Non mi inventa idea Vediamo se Forse è così Adesso Io faccio una cosa così Ok Pia No 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 Sì Good job Seguitemi Se volete vedere Altre cose Di questo genere Lasciate un like Eh Ragazzi Stiamo vendendo L'ultimi Paletti di uova E i soldi stanno andando Su la possibilità Della luce Quindi molto molto bene Poi dopo questi soldi qua Però non sono miei Perché li ho già investiti Quindi Dalla signora banca Dove ho dannato Tutti questi soldi qua Quindi Arrestiti Magari Teniamo con 10.000 euro E va ancora a dare 800.000 euro Ottimo Quindi Ragazzi Se Avete augurato il tempo Guardate uno dei video Che compaiono Sopra le mie Mani E niente Ragazzi Se è qualcosa è tutto Alla prossima Ciao Ciao